Musica Prende il posto di Lucia Lotti, trasferita a Roma e presente questa mattina alla cerimonia di insediamento. È Fernando Asaro, il nuovo procuratore del Tribunale di Gela. L'insediamento è avvenuto dinanzi al collegio composto da Veronica Vaccaro, Mari Camarino e Silvia Passanisi. C'erano anche gli altri magistrati, c'erano gli avvocati e i rappresentanti delle forze dell'ordine. Presenti anche Sergio Lari, procuratore generale di Caltanissetta, il presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta, Salvatore Cardinale. Fernando Asaro, 52 anni appena compiuti, arriva dal capoluogo Nisseno dove ha ricoperto l'incarico di sostituto alla procura generale. Per anni ha coordinato importanti indagini antimafia. Dottore Asaro, oggi il giorno del suo insediamento ufficiale, preso atto della situazione, quali saranno secondo lei le emergenze sulle quali lavorare? Le emergenze le affronteremo cammin facendo, le conosciamo. Il mio discorso oggi è stato improntato a quelli che sono i principi costituzionali che regolano l'ufficio di procura e che vogliono rappresentare questo ufficio come una istituzione dello Stato. Non è il procuratore, non è il singolo, non è la persona fisica che conta, non è l'io ma il noi. Le emergenze sono tante, le conosciamo. A cominciare una delle primissime emergenze è quella della carenza di magistrati e di personale amministrativo che non consente di affrontare le emergenze del territorio. Ma noi ce la metteremo tutta ed assumeremo questo compito con tanta pazienza, disponibilità e voglia di andare avanti. Gere è una città molto viva, c'è sempre un grande fermento, lavorerà nel segno della continuità e il Tribunale e la Procura rimarranno aperti e trasparenti alla città? Assolutamente sì, questa è l'impronta di chi è venuto prima di me, è l'impronta di un ufficio di procura che è l'istituzione dello Stato sul territorio, avamposto di democrazia sul territorio, l'apertura con un sorriso anche e la disponibilità ad affrontare le tematiche, quelle serie e anche quelle un po' meno serie della comunità vanno affrontate e il Palazzo di Giustizia è aperto e l'ho già detto, saremo anche noi, continuando l'opera di chi mi ha preceduto, ad uscire dal Palazzo di Giustizia perché il Palazzo di Giustizia deve essere trasparente, non opaco e aperto. Dottoressa, tornare a Gere in occasione dell'insediamento del suo collega, che emozioni le sta trasmettendo? L'emozione ovviamente c'è perché questo luogo è emozionante, però sono contenta di essere qui, sono contenta di avere questo momento che segna una continuità, per fortuna il collega Asaro è arrivato, è arrivato a breve distanza dal momento in cui ho lasciato l'ufficio perché c'è bisogno, c'è bisogno di lavorare, io penso che non solo ci sarà continuità ma ci sarà un rinnovato impegno il collega è venuto qui, viene qui con grande volontà, con grande desiderio di cimentarsi in questa realtà per cui ecco da parte mia veramente i migliori auguri, sono veramente contenta che lui sia qui. E lei invece come si trova nel nuovo ufficio? Si ricordano ogni tanto di noi, di questa città? Ma assolutamente sì, quotidianamente, è vero che sono in un altro ufficio, però come ho detto più volte il mondo è un piccolo grande villaggio, condividiamo riflessioni, condividiamo problemi, condividiamo esperienze Gela non è un qualcosa che è remoto nel passato, è un qualcosa di vivo, questo luogo è un luogo vivo e può insegnare molto, anche a Roma. A 19 anni questa mattina ha sostenuto gli esami orari di maturità all'Istituto di istruzione superiore Eschilo di Gela, diretto da Gioacchino Peritteri. Lui si chiama Samuele Di Natale, è un ragazzo autistico, in questi 5 anni scolastici è stato aiutato in classe nella vita da compagni sinceri e da una famiglia che non gli ha mai fatto mancare nulla. La storia che vi raccontiamo oggi abbatte il muro del silenzio. Ci sono tante famiglie a Gela che si trincerano dietro al problema. La famiglia di Natale il problema dell'autismo lo affronta ogni giorno con il sorriso, il sorriso di Samuele. Sì, ultimo giorno di scuola, 4 luglio si finisce. Ti sei preparato bene? Sì, sì, ho preparato bene così. Tu hai studiato per davvero? Sì, per davvero ho studiato così. La commissione d'esame si è detta assolutamente soddisfatta delle prove scritte e orale superate da Samuele lasciando intendere con un applauso che gli sarà assegnato il massimo dei voti. E dopo la scuola vuoi iscriverti all'università? No, no, va qua all'università, io voglio, se te vi voglio dare in pensione, come papà. Il ragazzo innamorato del festival di Sanremo ricorda senza alcun tentennamento i vincitori delle edizioni. Nel 2016 chi ha vinto Sanremo? E al Sanremo stadio? E un anno prima, nel 2015? Nel 2015 il volo? E anche nel 2014? A ISSA Ma dopo aver conseguito il diploma cosa accadrà? Samuele è un ragazzo che vuole essere sempre eseguito, per cui sarebbero molto difficoltosi mandarlo all'università perché avrebbe bisogno, diciamo, della persona accanto. Il vero problema è, Samuele, dal momento in cui si diploma, cosa deve fare? Perché non abbiamo nessuna istituzione, non ci aiuta nello Stato, nella regione e neanche la provincia perché per questi ragazzi ci vorrebbe, a Gela, perché io ne conosco di tanti, di questa tipologia di ragazzi con autismo, ci vorrebbe un centro diurno, un centro diurno significa tenere i ragazzi impegnati tutto il giorno. Non lasciamoli nascosti, io con orgoglio ho un gioiellino la mia vita, però dicendo agli altri genitori che si può arrivare a buon punto e io ne sono orgogliosa. Samuele questa mattina è stato attorniato dall'affetto dei propri cari, come ogni giorno. Noi da quando abbiamo avuto Samuele devo dire che la nostra famiglia ha avuto un gioiello, ha avuto qualcosa che ha migliorato anche il rapporto tra fratelli, tra genitori. Poi io devo dire che sono anche un padre da poco e devo dire che Samuele è un ottimo zio, quindi ne andremo sempre orgogliosi e siamo felici di questo. Posso dire di essere molto orgoglioso di lui perché è arrivato ad un ottimo punto, questo è un messaggio che voglio dare non solo per mio fratello ma anche per altri ragazzi che hanno, tra virgolette, questi problemi. Perché sono convinto che se ce l'ha fatto mio fratello possono farcelo anche loro. Nessun impegno del sindaco Francesco Larosa e dell'intera giunta municipale sulla vicenda carenza idrica a Niscemi. La città è ormai senza guida. Lo dice il Partito Democratico che accusa il primo cittadino di avere fatto poco o nulla sul problema che si trascina da anni. L'amministrazione comunale ha fatto poco o niente nei confronti di Caltacqua. L'unica azione che ha fatto è quella che ha nominato l'ufficio legale per azione per rivolta nei confronti di Caltacqua dietro specifica delibere del Consiglio comunale. E comunque è poca cosa perché l'amministrazione comunale dovrebbe fare azione più forte come nei confronti di Caltacqua in nome e per fronte della cittadinanza escenese. Didio, ma per chi ha Niscemi c'è questa grave carenza idrica? Caltacqua fa saltare i turni per la perdita e per peggio della condotta idrica che ci sono a Niscemi. Premesso che nel 2006, quando è stato affidato il contratto a Caltacqua, il contratto pare che è riscritto che Caltacqua deve fare delle opere di consolidamento della rete idrica, di miglioramento per fornire all'acqua addirittura H24, cosa che a quanto risulta Caltacqua non ha fatto. La situazione che si è venuta a creare a Niscemi esaspera la popolazione. Dai rubinetti non lo sgorga acqua e ora, a maggior ragione, in piena estate la vicenda diventa più problematica. In cittadini ci rivolgiamo stesse volte a questi fornitori cosiddetti privati che portano acqua anche non potabile e con costi di mille litri di acqua e ci vogliono 15-20 Euro. È una vergogna se mi si permette il termine. L'amministrazione comunale fa poco ovviamente nei complonti, ripeto, di Caltacqua. Addirittura il sindaco, qualche mese fa, con una dichiarazione disarmante e pilatesca, ha detto che ogni cittadino può fare causa nei confronti dell'attacqua. Il primo cittadino, ovvero il sindaco Barroso, dimentica che lui deve rappresentare tutta la comunità. E queste azioni che lui sollecita di fare le deve fare l'amministrazione comunale che ha le forze e le capacità. 40 candeline per la sezione gelese dell'Aias, l'associazione che accoglie ed eroga prestazioni per la tutela di pazienti con deficit fisici, psichici e sensoriali. Nata nel 1976, opera Gela in Contra di Manfria, offrendo prestazioni e servizi a soggetti portatori di handicap. Il presidente Anna Maria Longo. E festeggeremo quattro persone in modo particolare, perché sono quelli che fin dall'inizio operano nell'Aias, dall'apertura. Sarà una cosa commovente, specialmente per me, che c'è una persona a me troppo cara. Parleremo pure di persone scomparse che meritano il dottore Battaglia, il presidente, il primo presidente si può dire. La cerimonia di oggi è stata condotta dalla giornalista Rosa Battaglia, presenti le autorità istituzionali. C'era anche Francesco L'ho trovato, presidente d'onore Aias. Io ho l'onore di essere stato uno dei primi ad avviare questa attività. Godo della stima di tutta l'Aias nazionale. Sono veramente orgoglioso per ciò che ho fatto. Non è merito mio, è merito, sa, di chi è del Padre Eterno che mi ha dato la testa che ho. Altrimenti non avrei saputo fare niente. È stato necessario avere anche con la classe politica intelligente degli anni Ottanta, intelligente degli anni Ottanta, avere l'umiltà, avere la capacità di, non tanto di persuasione, ma di chiarire qual era il problema della disabilità, l'immaginazione nostra, dei nostri figli e noi genitori. E quindi fare un riscatto. Un riscatto in una popolazione, l'italiana, che dalle sue radici cristiane, non può che essere orgogliosa nel momento in cui si attiva per il prossimo, si attiva a riscattare quelle che sono le marginazioni. Il Vescovo di Piazza Merina, Monsignor Rosario Gisana. È un'associazione molto importante perché mostra una grande sensibilità nei confronti delle persone che oggi noi definiamo diversamente abili perché effettivamente sono così. Ci sono le persone che hanno delle potenzialità eccezionali, soprattutto a livello di cuore e che ovviamente noi tutti dovremmo cercare di sostenere e di cui anche fruire perché la loro amicizia, la loro sensibilità, la loro vicinanza è per noi importante in quanto aiuta a poter anche da parte nostra relativizzare tante cose che purtroppo spesso siamo portate ad assolutizzare e magari in maniera anche piuttosto esagerata. Per cui credo che questa attività, questa iniziativa sia davvero estremamente importante. L'Aias è davvero questa associazione che aiuta, io la vedrei come una sorta di memoriale continuo di una sensibilità che noi dovremmo sempre tenere alta nei confronti di questi nostri amici che sono davvero eccezionali. Si arricchisce di una linea telefonica lo sportello antiviolenza Angelas istituita al comune di Gera lo scorso 8 marzo. Il numero di telefono da cui rispondono le assistenti sociali è 0933 906745. Lo ha reso noto l'assessore comunale servizi sociali Licia Abela che ha presentato il servizio attivo tre giorni alla settimana così come previsto dal relativo progetto rivolto a donne e minori vittime di qualsiasi tipo di violenza. I giorni di apertura dello sportello sono il lunedì e il giovedì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Una linea telefonica a supporto delle donne e dei minori vittime di violenza violenza non solo fisica ma anche psicologica, economica di qualsiasi tipo. Un servizio che va a supporto e a potenziare quello che è già l'attività dei nostri collaboratori ai servizi sociali. Il numero da chiamare è lo 0933 906745. Il lunedì e il giovedì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì dalle 15.30 alle 17.30. Quindi un supporto sia telefonico ma anche ovviamente la possibilità di incontri personali qui al secondo piano del plesso dei servizi sociali presso il comune di Gela. Ovviamente la rete è una delle caratteristiche principali dello sportello Angelas infatti qualora ci fosse bisogno non mancheranno supporti psicologici anche delle forze dell'ordine, anche supporti sanitari qualora appunto venisse richiesta in base alla tipologia dell'intervento. Quindi una vera e propria rete che si mette a disposizione dei minori e delle donne vittime di violenza. Qualsiasi essa sia, questa può essere in qualche modo tutelata e aiutata all'interno di questi spazi. C'è stata una grossa spinta per attivare anche questo servizio telefonico nella maniera più veloce possibile proprio per dare un supporto anche a chi dovesse avere l'esigenza e avesse in qualche modo delle reticenze a recarsi presso gli uffici fisicamente. Quindi una linea telefonica che possa essere a supporto delle donne per esempio che possono anche avere dei momenti di particolare bisogno di supporto psicologico penso ad un postpartum, penso a dei momenti particolari nella vita di tante donne, di tanti minori che in questo momento vivono una situazione magari di disagio. Quindi proprio a loro io rivolgo la mia attenzione e il mio pensiero visto anche gli ultimi fatti di cronaca molto gravi che si sono succeduti in città. Le soluzioni ci possono essere, i professionisti sono a disposizione e qualsiasi tipologia di situazione nella quale appunto ci si possa trovare può sicuramente trovare una risoluzione in una maniera molto semplice e molto professionale. Quindi il mio invito è quello ad utilizzare questi strumenti che il Comune e tutta la rete mette a disposizione perché nessuno debba sentire l'esigenza di, nemmeno il pensiero deve essere sfirato di pensare di fare dei gesti estremi. E' stata ripristinata una vecchia usanza. La statua della Madonna rimane qui per otto giorni dal giorno in cui si è svolta la processione e non più nel posto dove l'abbiamo sempre vista. Sì, anche perché diventa una lettura molto bella. Durante il settenario la Madonna era in alto, tutti i gelesi, tutta la città è venuta a trovarla rientrando dopo la processione abbiamo scelto di lasciarla qui. Non è più la città che viene a trovare, ma è Maria che viene a trovare la città. Cioè si mette nello stesso piano, no? Una vicinanza non solo fisica, ma una visibilità di questa vicinanza di Maria spiritualmente presente in noi. Infatti tutte le celebrazioni di quest'ottava per ogni giorno stiamo facendo una memoria di Maria. Madre del Buon Consiglio, Madre della Gioia, Madre del Signore per sottolineare ancora di più la presenza di Maria nella nostra vita. Ma per quale motivo, tornando un attimo indietro, la processione che non si è fermata in via Manzoni dove era stata anche allestita a una festa vera e propria? A me è arrivata una difida, una difida che davvero vietava il sostare in via Manzoni. Come dice proprio la difida, no? Pertanto, al fine di evitare i rischi e i pericoli per la incolumità fisica dei fedeli in processione, si invita la Codesta Parocchia a transitare per la pubblica via Manzoni e a non esvolgere alcuna fermata o sosta all'altezza del numero 100, no? Dove c'erano le palassine che hanno problemi, no? Come la via è stretta e abbiamo scelto di fare il disfogliamento all'inizio di via Manzoni e poi passare per via Manzoni e fermarci solo sul lavatutto, il benzinaio che c'è, solo transitare, non fermarci. Ma per un motivo molto semplice, c'è questa difida che una settimana prima una della palassina numero 100 mi è venuta a portare. La legge venne osservata, non osservata come voglio me, ma osservata secondo i dettami della legge stessa. Per lei è stata l'ultima professione, l'ultima festa della Madonna delle Grazie perché sarà trasferito e arriverà il nuovo parroco e arriverà anche il nuovo viceparroco. Sì, il nuovo viceparroco. Ieri il governo della provincia, il ministro provinciale con il suo consiglio è stato radunato e hanno eletto Fra Luca Bonomo che è stato con noi questa settimana, lui sarà il nuovo parroco. A fianco a lui prenderà il mio posto come viceparroco, Fra Emanuele Lattale che attualmente lavora anche, fa un servizio al carcere a Gelle. Quindi verranno questi due, io e Fra Corrado siamo stati trasferiti alla città di Ragusa, una nostra parrocchia Sacra Famiglia che è anche un'altra parrocchia molto grande che sicuramente avrà bisogno di noi. E porterà lei Gelle là nel cuore a Ragusa? Guarda, io ringrazio, ringrazio innanzitutto alla comunità parrocchiale, la città, tutte le relazioni a Rocco che mi ha evitato in questa comunità parrocchiale. Tutto ciò che abbiamo fatto assieme come parrocchia, come comunità, io porterò nel cuore la città. Dopo qualche giorno d'attesa è arrivata la definitiva comunicazione da parte della regione siciliana sulla riconferma direttore del Museo archeologico regionale di Gela dell'architetto Ennio Turco. La notizia si inneste in un momento in cui è in corso la rimodulazione dei musei e delle aree archeologiche dell'isola. Che cosa cambierà? Ne abbiamo parlato con il direttore che resta alla guida di una delle risorse più preziose di Gela e del suo comprensorio. La regione siciliana ha fatto una riorganizzazione di tutti gli uffici del bene culturale e anche Caltanessetta ha avuto questa modifica. Si tratta un po' sia per quanto riguarda l'assetto organizzativo, ma perché è finalizzato al risparmio un po' e a ottimizzare quelli che sono i rapporti istituzionali tra i vari enti. Nello specifico il Museo di Gela viene accorpato col Museo di Caltanessetta, appunto facendo questo polo regionale. Ora, ancora i decreti non ci sono, quindi non possiamo parlare precisamente di come verranno dislocate i servizi e come sarà organizzata la struttura, però come si immagina la regia sarà qui a Gela, avremo noi un'unità operativa a Caltanessetta e quindi ci sarà sicuramente un intreccio tra Gela e Caltanessetta e spero che ci porta solo un apporto migliore e effettivo. I visitatori che verranno al Museo di Gela potranno godere di un biglietto unico con le aree che si possono visitare a Caltanessetta o ancora questo passo non è stato compiuto? Questo ancora è da venire. Caltanessetta è anche una città anche greca perché Sabucina è stata fondata dai geloi che attraverso il fiume Salso sono risaliti fino ad arrivare al guado tra Sabucina e Capodarso e quindi una linea c'è, questa è una cosa che forse lo sanno solo gli addetti ai lavori lo dobbiamo far sapere al mondo intero poi quando riguarda il biglietto intero è il biglietto unico questo lo vedremo con il Dipartimento che ci darà sicuramente dei ragguardi. Quali sono i progetti, le idee che intende mettere in campo? I progetti ne abbiamo tanti tra cui tre che già a prescindere del polo museale il museo di Gela sta portando avanti uno la ristrutturazione del museo esistente che si tratta di un progetto con fondi economici europei con un PON che è più di 3 milioni di euro quindi nel giro di qualche anno noi avremo la ristrutturazione di questo museo esistente e poi ci sono altri due progetti uno sulla valorizzazione di capo soprano dell'agropolo e uno sul bosco lettorio questi come progetti che noi già a prescindere di questo polo noi stiamo portando avanti. Apre le porte il nuovo pronto soccorso all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela da stamattina alle prime visite una apertura che era già stata annunciata dal manager dell'ASP2 di Caltanissetta Carmelo Iacono Oggi dopo tanti mesi di aspettative abbiamo aperto il nuovo pronto soccorso che è un pronto soccorso più centrale più centrale per l'ospedale perché è vicino alla radiologia, alla rianimazione sopra abbiamo l'UTIC è un pronto soccorso che è ritornato all'origine si trova in via Palazzi e l'agenda e l'utente avrà più possibilità di entrare più vicino è più confortevole è a norma di legge con le stanze migliori, tutto il climatizzato ci sono varie stanze dedicate come il punto bianco, il codice verde, il giallo, il rosso il rosso è più ingrandito, migliore ogni stanza ha due postazioni Per ciò che riguarda il nuovo pronto soccorso e il personale i sindacati ospedalieri avevano già espresso da un lato soddisfazione ma dall'altro delusione per la carenza di personale Il personale finalmente mi ha telefonato stamattina la direzione strategica di Caltanissetta e il direttore generale stanno prendendo due medici voi sapete che attualmente noi abbiamo un personale di sette medici non si sono riusciti a trovare altri medici finalmente due medici li abbiamo trovati così faremo in modo che anche di notte ci sia il doppio medico attualmente voi sapete che al pronto soccorso di Gera c'è un solo medico che giustamente può fare quello che può fare con tutta l'affluenza ora da come arriveranno questi due rinforzi faremo il doppio turno con il doppio medico anche di notte La mattina è anche previsto di pomeriggio anche il punto bianco e nei festivi sabato e domenica c'è la possibilità che il punto pediatrico c'è la possibilità che vengono visti anche i pediatri questo è un discorso che ha avuto la nuova direzione strategica di Caltanissetta da un anno e mezzo voi sapete che un paio di anni sapete che all'ospedale di Gera c'è il punto pediatrico nei festivi e nei pre festivi dalle 10 di mattina fino alle 8 di sera così non si può affollare più la pediatria perché la pediatria prima era affollata dai bambini che arrivavano di fuori Al bando lo spreco si va a recuperare tutto ciò che i commercianti non riescono a vendere nel corso della giornata e prima che l'alimento sia diventi deperibile lo si dona a chi ha bisogno Questa iniziativa nasce dal desiderio comune di non voler buttare quello che è il cibo in venduto con Commercio, Casa Artigiani, Storopinist si è pensato di creare questa rete di bene che porterà ad aiutare tante famiglie che sono oggi in difficoltà attraverso il recupero del cibo in venduto per un vantaggio da parte dei commercianti che non dovranno smaltire il cibo come rifiuto a beneficio delle famiglie che oggi vivono delle grosse difficoltà Abbiamo voluto fortemente questa cosa perché è importante è importante per la città, è importante aiutare, ha dei risvolti importanti per cui speriamo solo, speriamo che possa partire veramente perché questo è solo l'inizio di un lavoro e di un impegno che deve essere poi un po' di tutti quindi invitiamo anche tutti quanti i panificatori e quanti ad associarsi a questa iniziativa che ritengo aiuterà tanto la città di Gela Il problema più grosso come al solito in Italia è la burocrazia perché noi abbiamo i nostri commercianti, operatori, panificatori che hanno voglia di donare l'invenduto però ci sono le leggi che lo vietano quindi abbiamo trovato un escamotage, se così possiamo dire grazie alla piccola casa del volontariato che ci ha permesso di trovare quello strumento burocratico per poter andare a donare l'invenduto È un'organizzazione che bisogna affrontare di petto perché intanto il messaggio è partire quindi già la sensibilizzazione è stata fatta abbiamo già delle micro imprese, i panificatori ristoranti e pizzerie che già hanno capito il tipo di messaggio quindi piano piano si parte con loro L'istituzione della Casa della Misericordia devo dire che è un'idea assolutamente indispensabile per la città e che si faccia all'interno dell'ex orfanotrofio è perfettamente coerente con lo spirito e con lo statuto dell'ex orfanotrofio che è rivolto a chi ha bisogno e purtroppo chi ha bisogno è in aumento in città La Casa della Misericordia fa la sua parte per quanto potrà fare L'amministrazione ovviamente non è in grado di rispondere a bisogni immediati del momento e questo è un ruolo che la Casa della Misericordia ma anche altre chiese devo dire svolgono in modo ingommiabile L'amministrazione ha il compito invece di creare le condizioni perché questo trend negativo abbia a invertirsi Una piccola buca sul manto stradale all'incrocio tra via Firenze e via Giuffrida nel quartiere Sant'Ippolito a Gela nonostante le numerevoli richieste non è stata ancora riparata dalla prima istanza sono passati due mesi e nulla è accaduto e i residenti della zona protestano perché da quella buca fuoriesce un odore nauseabondo e la stessa buca è diventata meta preferita dei ratti L'ho visto io, l'ho visto, una di mattina era bello grosso e di sera c'erano quelle piccoline e se ne è andato dentro al gioco della raretta al gioco Il problema sono che io siamo malati, siamo malati marito e mogliere ho letto che abbiamo gioco ho letto che abbiamo gioco e avevo quasi due mesi che abbiamo fatto questo fuoco del gioco si mettono da allora due per montare questo gioco e non ci hanno visto un odore Un piccolo intervento, non chiedono altro i residenti Noi dopo che abbiamo messo a confronto Caltacqua e il comune si è venuti a conoscenza che la responsabilità è del comune sono venuti e hanno posto delle transenne però a tutt'oggi i lavori sono ancora da eseguire non capisco perché perché è una piccola manutenzione solo che la buca sembra piccola però se noi andiamo a vedere all'interno c'è uno scopo abbastanza profondo e la sera escono oltre ai topi anche degli odori nauseabondo Tutto il quartiere purtroppo deve essere in una situazione di disagio abbiamo fatto delle richieste all'URP però non vengono puntualmente come si suol dire non vengono effettuati i lavori anzi abbiamo fatto una richiesta nella via Lecce perché c'era un palo della luce che aveva dei problemi perché per la ruggine stava cadendo sono venuti e hanno tagliato il palo sì è vero hanno risolto il problema della cadenza del palo però la signora è senza luce da circa due mesi chiedete un intervento al comune ma certo che ci capuzza ma non potremmo stare se stiamo fuori se mangiano lì ci chiamo a fare non potremmo stare non potremmo stare non potremmo stare non potremmo stare